Cari amici, la storia si ripete. Quest'oggi siamo tornati con Tortello e quest'oggi do a Tortello un'altra possibilità per rifarsi dal precedente box opening di mega cassa. Tortello è il delirio, il delirio. Ti faccio trovare il mondo, ti faccio trovare il mondo. Io lo spero Big Torti perché questa è una cassa speciale, questa è l'ultima cassa rossa che potrò mai aprire del mio account perché è esattamente la cassa delle 9000 coppe, top cassa rossa. Cosa ci troverò mai secondo te Torti? Secondo me il cactus, il cactus l'ho dichiarato. Io lo prendo. Ragazzi, 20.000 like e troverò il cactus perché questa cassa la apriremo durante il corso dell'episodio in un momento epico magari, momento epico troveremo sicuramente un leggendario ma devo lasciare un pollicione, iscrivervi perché tra l'altro stiamo per arrivare a 10.000 coppe e se va bene questo box opening con Tortello apriremo anche quella delle 10.000. La prima cassa gialla, la prima cassa leggendaria dorata. Non vedo l'ora. Conto su di voi, iscrivetevi e attivate la campanina perché usciranno contenuti top altrimenti ve li perdete. Grazie per avervi il supporto. Per rendere il video ancora più epico, oltre che all'apertura della cassa nel frattempo ricordo il link al canale Tortello in descrizione cercheremo di portare il signor Bo al grado 20. Leggero taglietto ragazzoli, proprio molto clean. ci mancano 20 coppe, siamo a 480 ma abbiamo fatto qualche partita di riscaldamento giusto per riscaldare un po' la caverna rumo, lo sai che è una mappa incredibile. Regolare, regolare. Se boffa. Ma ora siamo concentrati ed è il momento di portare a casa questo grado occhio a quello stecca che è una bestia, su sta mappa rimbalza pure tutto. Matto, matto! Mattissimo, materrimo. C'era il king degli stecca matti. Si è trovato lì a far palo, il palo. Buono, buono, buono. 20 coppe da fare ragazzi, quindi sono 3 seconde posizioni e anche 3 vittorie perché comunque un più 18 non basta. Non è facile farle, ma se ce la giochiamo bene. Si potrebbe provare qualcosina, Torti, ma io c'ho una paura. Lascia perdere proprio. Usciamo fuori, va. Cerchiamo di pushare il team, questo è un alto. Stecca reale e il primo. Stecca è il primo. Eccoli! Ah, dice sono accampati. Vediamo? Bull ha ucciso il primo, manca solamente Stecca. Eh, ma Stecca colpisce troppo lontano. Cerco di schiacciarlo dall'alto. Vediamo un po' se mi dice bene. Te prego, te prego. Very clean. Bombette tattiche. Qua serve un Miracle Blade. Moro! No, pensavo non se ne fosse accorto. Torti, devi rinascermi con l'ulti. Va bene, va bene, raga. Seconda posizione, molto, molto good. Molto, molto good. Ma non è una partita per aprire la megacassa. Tra l'altro, ricordo... Oh, ci mancano solamente 13 coppe, not bad, eh. Io esco e rientro. Mamma mia, che brutto. Ricordo, ragazzi, che all'interno della megacassa, oltre che ai brawler che mi mancano, ragazzi, 5 brawler classici, 3 medici e 2 regendari, possiamo anche trovare le star power di Dana Mike. Tutte e due, sia il salto che la demolizione. Le troveremo? Seguite il video. 13 coppe, Torti, ti prego. Ti prego. Confido su di te. Lo spawn com'è? Ci tocca andare al centro. Veloci al centro, Torti. Tanto sopra c'è un altro team. Proviamoci, Tortiglione, proviamoci. So che il centro, ragazzi, è sempre... Dici che ci fanno un pluff? Ci fanno un pluff, eh. Ci fanno il pluff. Muoviti, 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 muoviti. Non ho visto... Guarda quello sotto. Vai! Vai! Vai, pluffalo, pluffalo! Morto Tortiglias, credo... Non è vero. Porca miseria, sei morto Tortiglias. E qui, raga... Oh my god, è questo schifo! No, io non lo so, io non lo so. Raga, la caverna rumorosa, banditela, ragazzi, perché fa veramente male al cuore. Per i deboli di cuore, la caverna rumorosa... No, evitatela. Evitatela, fa veramente male. Cioè, comunque, comunque, è anche una mancanza il fatto che su Bo non c'è la star power. Quella star power qui, Bo, viaggia. Se te lo mangi, Tortè, sei un fenomeno... Buono? Buono? Look at Shelly! Look ali tutti! A Shelly del cavolo. Venga, venga qua, Shelly. Mamma. Morto, gliela ste caramelle. Io ho messo... Io ho messo le caramelle, rega. No, 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 non mi dire che è Bull. Vabbè, Bull, no problem. Devo diragli le caramelle? Le caramelle. Aspettate. Chi c'è, chi c'è, chi c'è qua? Chi c'è, chi c'è qua? Ticca un po' un bandino. Ticca male, ma... Bull con le correction. Where is Bull Shiny? Non ci prova. Non ci prova, zi. Tortè c'è, però. Ma dove stai, frate? Ma dove sei andato? Sono chiuso, Tortè, aiuta me! No! 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 Oh mio Dio! Oh! Dove eri andato? Eh, ammazza Ticca. Ragazzi, che partita era? Avevo killato una Shelly con 8 power up con solamente le frecciate. Poi è arrivato anche Bull, ma finito. Vabbè. Eh, t'ha scoppiato, t'ha squagliato nella porza. Ti vai subito sotto, Torty. Prendi quella velocemente con tre colpi sotto. Bravo, io prendo questa a sinistra e quella contesa. Raga, mannaggia di quel Bull. Pazzesco, pazzesco. Ti ho sentito la puzza, lì ho sentito la puzza della paura. Mi sono veramente sporcato tutte le mutande. Dobbiamo giocare le strategiche. Quella può andare giù, eh. Easy, easy, easy. Bravo. Aspetta, torna dietro, torna dietro, torna dietro. Torna dietro. Cerchiamo di rimanere sempre nei finali. Sta Bull è andato, Bull è andato. Infatti, l'ho visto. Paura del jumpscare. 3, 2, 1, jumpscare. Regà, me la sto fa sotto, vi giuro. Ok, qualche dannetto l'abbiamo comunque fatto. Buono. Ma la cosa folle è che non mi grepa nessuno. Come fanno ad esserci ancora cinque temi? Eh, io no... Cioè, qui te ne ho... O, dai, devi pigliare la fana e le spaccare quell'erba, male. Eh, sì. È vero che te ci sguazzi nell'erba, però. Eh, però non c'è. Che vogliamo fare? Vogliamo provare a entrare? Tu c'hai anche la ulti per eventualmente fuggire. Ora te me la sto fa sotto. Perché la caverna rumorosa è così, raga. Dai, dai. Eh, me lo immaginavo. Però non era male neanche come push, eh. Look, death, shelly. Tua! Bravissimo! Corvo jumpa, mattissimo il corvo, eh. Ah, te ne mori, però te ne mori! Fenomenale sto Grax, ragazzi. Occhio, c'è l'orzacchio lì, c'è l'orzacchio. Rimani safe, rimani safe. Ti metto delle bombette. No! E va bene, va bene, non ho problemi, non ho problemi. Non ho problemi. Va tranquillo, va tranquillo, va tranquillo. Sto dietro a cigone. Mazzoscelli. Guardala la manedetta. Dove sei? Dove sei? Uno. Vai a sinistra che c'è l'immunità? Sono morto. Porco schifo, sono morto. Devi fuggire in basso a sinistra. Bravo. Te prego! Grande Tordi! La ulti perfetta! Mamma mia, lì che diagonale. È diagonale. E quindi, ragazzi, questa è la partita finale. Ovviamente piccolo taglio, ma la cosa bella è che ci mancano adesso quattro coppe. Questa è la partita quella giusta. Mamma mia, mamma mia. E forfus. Lo script esiste, ragazzi. Lo script esiste. Spawn in alta a sinistra. Spawn bello ricco, perché sono subito due casse. E vamos... Anche due sotto. Con la partita decisiva. La cosa bella, regà, è che facendo tutte queste coppe, arriviamo velocemente a 10.000 coppe. Dei cattiveria. Vai, 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 torte, torte. Top team. Questa la vinciamo, la concludiamo in bellezza. Ah, mamma mia che gufata. Che gufata che hai fatto. Mamma mia che corvo che sono, ragazzi. Sono un mecha corvo, eh. Ma, se non lo dici, non succede niente, eh. E questo è il bello dei nostri video, torte. Devo aumentare la difficoltà. Occhio Shelly and... Chi è quello sotto? Jesse addirittura. Potrebbe funzionare una mappa del genere. Sinceramente non lo so. Il colpetto gli entra. Comunque Jesse mi colpisce. Fa mille. Può morire qualcuno, gentilmente. Un team è morto. Vedi, stavolta ha funzionato. Quattro, quattro, quattro. Mamma. Ne so, ho preso una merda di danni. Se non vedo il tre, non mi sento al sicuro. Non so, non so che fare. Vuoi entrare? Guarda quella Shelly sotto. Quanti ne hai, Shelly? Quanti ce ne... Prendi e scappa, torte. Sto rallentatissimo. Oh mio Dio. Ci sono. Ci sono. Ci sono, ci sono. Vuole tantissimo quei due power up. Ovviamente non posso prenderli. Rimango qui. Rimango qui. Non posso né scendere né salire. Né scendere né salire. Rimango qua. Grazie per avermi portato i colpi concatenati. No, però mi serviva la final. Mi serviva la final. Si può fare. Si può fare. Dobbiamo vincere la partita per rendere il chest opening più epico. No, ma io qui sopra ho scappato via. No, non tu rimani safe, torte. Non esiste in questo momento. Dobbiamo killare quel team sotto. Oh, mi ammazzo. Eh vabbè, ma io gli posso fare una cosa del genere, no? Tiè. Tutta tua. Bam. Prenditela, prenditela, prenditela. E adesso devo essere bravo io, ragazzi, a spingere la top Shelly verso il Tic di sinistra. No. Dov'è Tic? Dov'è Tic? Dov'è Tic? Where is Tic? Non ci credo tu te! Ammazzalo! Ammazzalo sopra, 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 sopra. Non la vedo, non la vedo. Destra, 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 destra. Morta! Chi ci sta? Altra Shelly con la ulti. Stunnata e ristunnata. 3, 2. 3, 2, vai gli addosso. Vai gli addosso adesso. Vai! Sì! Ragazzi, abbiamo una top Megacassa! Che partita! Pazzesco, pazzesco. Aspettavo questa partita qua. Per aprire la Megacassa, 505 coppe e 300 punti stellari. Per aprire la Megacassa e trovare un leggete. Ragazzi, preparatemi. Spike alla mano. Arrivano le stelline. Sei pronto, Torte? Vado? Sei skip, ti prego. Sei skip. Non è possibile che il Torte lo sia così sfigato. Megacassa rossa ultima del mio canale, del mio account. Sei skip. 5 skip, non è possibile. Eh, l'abilità, l'abilità. C'è stata l'abilità. Leon, Nita, Bibi. E il primo è due schifiti e biglietti e gettoni, raga. Ma il gioco ci prende in giro, ragazzi. Cioè, ho fatto una giocata pazzesca. Pensavo di trovare qualcosa. Questa Torte, ci hai portato sfiga pure sta botta. Una palca sulle spalle. Prendiamoci un po' trobetta, raga. Andiamo a mettere qualche punto energy per Bibi che fa veramente schifo. La mia Bibi, la potenziamo. Altre monetine. Apro la Cassabrol. Quella singola. Vado? Ti prego, una piccola soddisfazione. Vado, ti prego. Droppalo. Mamma mia, Leon Barrilla, ragazzi. Lo schifo più totale, non ci voglio credere. L'ultima Cassa Rossa salutata, ma almeno abbiamo fatto boh. I ringrazio Tortellone. Mandi un bacino al Tortellozio. Ricorda, link in descrizione. Like, iscriviti alla campagna e ci vediamo il prossimo episodio. Ciao da te, ciao! Tortico, bella, 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 bella.